Decine di auto rubate per una discarica o se si preferisce un cimitero. Decine di auto rubate, danni, abbandonate in un'area che grazie alla loro rimozione rinascerà come percorso turistico di pregio destinato a valorizzare il territorio. La bonifica in queste ore ha interessato la gravina del buco di Fasano, un intervento fortemente voluto dal sindaco Francesco Zaccaria e dall'assessore Gianluca Cisternino che agli aspetti legati al turismo mescolano quelli di natura ambientale. Quelle auto, alcune arrugginite, erano lì da anni deturpando l'area e inquinando l'ambiente. L'idea è quella di valorizzare questo tratto, un tratto molto suggestivo, un percorso naturalistico che è già utilizzato da molti podisti e da molti ciclisti che partendo da Fasano raggiunge la selva, sono circa 4 chilometri e l'intenzione dell'amministrazione così come è avvenuto per la gravina di San Donato e per l'ortobotanico è quello di valorizzarlo mediante il posizionamento di una segnaletica che indica il percorso a partire da Fasano e anche il posizionamento di panchine quindi attrezzarlo come un vero e proprio percorso ciclo pedonale. Siamo riusciti grazie all'abnegazione del funzionario Montanaro e del dirigente D'Adamo a organizzare questa operazione che burocraticamente viene fatta prendendo i soldi delle multe del nucleo di polizia ecologica colgo l'occasione per ringraziare il lavoro svolto sugli abbandoni ovvero gli agenti Sarcinella e le grottaglie e abbiamo preso quei soldi e li abbiamo spostati per fare questa bonifica del territorio che era attesa come si vede anche dai modelli delle auto da tanti anni.